Noi siamo molto soddisfatti nel quadro di una grande vittoria nazionale che si è determinata e di cui c'era tutta l'aria anche per il fatto che per la seconda volta in 20 mesi o meglio a distanza di 20 mesi dalla vittoria delle elezioni politiche del 2022 Fratelli d'Italia segna la percentuale che lo consacra come primo partito della provincia di Salerno anzi addirittura migliora quella percentuale arrivando al 27,5% che significa oltre tre punti in più rispetto alle elezioni politiche Il Feudo De Lucchiano sgancia di sei punti il PD anche? A me sembra che il Feudo non ci sia più nel senso che è il secondo squillo che riceve a queste elezioni peraltro il PD segna un avanzamento molto modesto rispetto a quello nazionale pur nutrendosi della perdita di consenso dei 5 Stelle che per esempio in provincia di Salerno sono scesi dal 24 al 14 e mentre a livello nazionale riescono ad intercettare questo flusso in uscita Mi sembra che in provincia di Salerno non ci riescono, anzi sono addirittura sotto alla media regionale per non parlare di quella nazionale Nonostante gli attacchi scomposti alla Meloni, agli esponenti del nostro partito mi sembra che gli elettori hanno fatto una scelta netta, l'hanno ribadita È moltissimo merito di Alberigo Gambino, è moltissimo merito di tutta la classe dirigente del partito che si è mobilitata Consentitemi di dire che è tutto merito anche di forze sociali ed economiche del territorio della provincia di Salerno che ci sono state vicine nel senso buono del termine spalancandoci le loro porte Io per esempio ho fatto una campagna elettorale recandomi in molte visite ad aziende, a studi professionali, a realtà del terzo settore Cioè tutto quel mondo che vuole essere ascoltato e che vuole trovare nella politica un interlocutore e non qualcuno che è a caccia di realtà da schiavizzare ai fini del clientelismo Posso chiederle anche se questo risultato sarà utile in vista delle regionali per consentire a Fratelli d'Italia di esprimere il suo candidato tra le forze di centrodestra? Ma io credo che queste europee non aggiungono e non levano nulla a quello che già era Le regionali è un'altra partita che per noi è la madre di tutte le battaglie Chi parla farebbe meglio a lavorare Noi lo facciamo quotidianamente per costruire l'alternativa